Nuovo appuntamento con redazione aperta, la nostra rubrica dedicata agli incontri che la nostra redazione fa con la città, le istituzioni e per questo Santo Natale che si sta avvicinando abbiamo ospitato il Vescovo di Grosseto, Monsignor Rodolfo Cetoloni. Un Natale particolare quello che arriverà tra pochi giorni perché quest'anno c'è anche il Giubileo della Misericordia con l'apertura della Porta Santa prima a Roma l'8 di dicembre e poi domenica scorsa proprio qui a Grosseto, tanta partecipazione e naturalmente il messaggio della Misericordia e del Giubileo si lega perfettamente a quello che è poi il messaggio anche del Natale. Sì è un messaggio particolare perché il Natale è sempre ogni anno, sembra sempre la stessa cosa invece è sempre molto particolare perché cambiano il tempo, cambiano le cose, le situazioni e noi ci debbiamo il Natale come senso proprio della fiducia in questa presenza di Dio e in questa storia. Quindi dobbiamo trovare le risposte a questo momento attraverso la sua presenza e il suo modo di dirci l'umanità, prima di tutto un'umanità in cui Dio si fa avvicino, questo è il senso del Natale e della nostra fede. In questo momento difficile, pensoso dicevo nel nostro messaggio per il Natale quest'anno perché le cose non vanno bene in giro, ce ne sono tante sia localmente, sia nella Chiesa, sia tra di noi, sia nel mondo, però anche se è pensoso c'è luce, cioè Dio non abbandona questi momenti. E questo è il messaggio anche della misericordia, possiamo talvolta anche dimenticarci, possiamo pensare che Dio non gli interessa la nostra vita, possiamo anche arrabbiarci con Lui dicendogli che non gli interessa la nostra vita e allontanarci da Lui, ma Lui è caparbio a questa volontà di vicinanza, a questo desiderio di vicinanza fino a caricarsi Lui anche al Natale, farsi uno di noi. Con tutta quella di bellezza che è il Natale, la nascita di un bambino perché ci muove anche i sentimenti, ci riapre la speranza, ci rida la gioiosità del guardare alle cose, ma anche con tutta la serietà che è la nascita di una persona perché significa davvero imbarcarsi con noi in una storia di umanità che anche a Lui è costata tanto, però ci ha portato dentro questo senso di vicinanza di Dio e di capacità di vincere poi il male che c'è. Tanti appuntamenti in vista di questo 2016 per il Giubileo e anche tante iniziative per questo Natale, tra queste anche la mostra di presepe al Palazzo Vescovile, anche quello è un segnale legato a uno dei simboli anche più amati della tradizione del Natale in città e non solo. Sì, questa iniziativa che vedo sta crescendo perché anche nelle scuole c'è stata una grande risposta a questa proposta di fare il presepe, di fare il Natale. Il Palazzo Vescovile è il Rotary che ha preso questa iniziativa, ma già dall'anno scorso lì sulla porta d'ingresso c'era un presepe, quest'anno c'è un presepe di Andrea Pazienza, un famoso dei comics che ha avuto un esito della sua vita drammatico, però in questa striscia c'è davvero come tutta l'umanità, uomini, piante, animali di tutti i tipi, vanno verso il Signore. Quindi questo anedito è di tutti. Di sopra la mostra dei presepi napoletani, tipici proprio con le artigianali fatti da un'associazione di San Giorgio al Cremano, Cremano, ecco, conosco molto Napoli, dove si vede come ogni popolo ha cercato di vestire dei propri usi, delle proprie vesti, dei propri ambienti la storia della nascita di Gesù, perché ognuno riconosce che si fa vicino a Lui, là dove è, gli eschimesi li vestono così, gli africani da sé, e questo è anche un bel segno, cioè Dio corrisponde alle nostre misure, Dio prende le nostre misure. Un pensiero naturalmente anche alla Terra Santa, a cui lei è molto legato. Sì, io andrò giù subito dopo l'Epifania, a nome anche della Conferenza Episcopale Italiana, per vari vescovi di tutto il mondo per occuparsi di questi problemi. In questo momento la Terra Santa è accerchiata da tutte queste situazioni del Medio Oriente, quindi vive anche una difficoltà ulteriore, perché i pellegrini non vanno, il lavoro ce n'è poco. Però anche lì nei giorni di Natale è come se rinascesse la voglia di bene, la voglia di pace, anche di incontro, perché alla grotta di Betlemme nei giorni del Natale riaprono anche le porte del muro che tra Israele e la Palestina è stato fatto. Proprio come quasi che di fronte a questo rompere di Dio della distanza tra noi e Lui, anche noi potremmo ritrovare questa capacità di rompere le distanze. Proprio come quasi.